Ciao, oggi vi invito a riscoprire la tradizione con le animelle fritte. Io le preparo così. Sbollento le animelle per 5 minuti in acqua acidulata. Le scolo. Pulisco le animelle e le taglio a fette. Le infarino leggermente. Le frigo nel grasso caldo fino a che non sono ben dorate. Regolo di sale prima di servire. Queste sono le mie animelle fritte. Grazie. 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 Grazie.